Ciao YouTube, altre grigliate di pesce, adesso abbiamo due saraghi, tempo di cottura, con sola legna, circa 9 minuti, abbiamo già preparato, 3 spiedoni di gamberoni, provenienza argentina, aia brucia, e 3 spiedoni doppi di sardine, il povero è ricco, 24 euro al chilo, contro 4 euro al chilo, per fare gli spiedini di sardine consiglio di prendere due spiedini e filarne 12-15 alla volta, vedrete che saranno più facili da staccare dalla griglia, un po' di pangrattato e basta, i gamberoni invece un bel niente, un altro giro alla griglia, visto perché non si spappoli, un saluto dall'antica trazzaria neri, ciao a tutti!